Il premio Marcon è da alcuni anni a questa parte, un'istituzione della vita culturale di Foggia. Qual è stata la peculiarità di questa edizione? La peculiarità di questa edizione innanzitutto è stata un ex equo, perché sono state premiate due tesi di taglio molto diverso, ma entrambe di elevata qualità per i loro contenuti e per l'elaborato. Un'altra peculiarità è che per la prima volta è stata premiata anche tra le due tesi premiate, una tesi discussa non nell'Università di Foggia, ma in un'altra università, nello specifico l'Università di Bologna. Il bando infatti prevede la possibilità di partecipare sia di chi si è laureato o anche chi si è addottorato, quindi riguarda anche tesi di dottorato nella nostra università, ma anche è aperta a chi residente in Capitanata abbia studiato in altre università. Una delle due tesi è stata discussa all'Università di Bologna, riguardava però la criminalità in terra di Capitanata analizzata sotto i profili sia giuridici che sociologici. La dottoressa Alessia Ricci era appunto l'autrice di questa tesi, che tra l'altro i primi tre anni la laurea triennale l'ha conseguita qui a Foggia prima di iscriversi a Bologna e ha spiegato perché esiste un corso di laurea in mafia e antimafia a Bologna. La seconda tesi invece ha messo in luce un aspetto fino ad adesso poco esplorato della criminalità del nostro territorio e cioè la sua ormai elevata capacità di trasformarsi in un'associazione transnazionale. Grazie a tutti.